Con questa lezione chiudiamo definitivamente l'argomento relativo al pianeta Gioe e ai suoi satelliti medicei. Infatti in questa lezione parleremo dell'ultimo satellite mediceo in ordine di distanza da Gioe che si chiama Callisto. Questo satellite come tutti gli altri precedenti satelliti che abbiamo trattato sono stati scoperti da Galileo nel 1610 e a questo satellite è stato dato il nome di Callisto con riferimento alla mitologia greca nel senso che Callisto era la ninfa amante di Zeus. Successivamente come è avvenuto anche per gli altri satelliti medicei Callisto è stato poi chiamato il quarto satellite di Giove. In realtà poi quando si sono scoperti altri satelliti sia di Giove che in altri pianeti la denominazione di Giove IV è andata in disuso e di conseguenza è stato rinominato questo satellite con il nome originario di Callisto. Vediamo ora le caratteristiche generali e orbitali di questo satellite. Allora dobbiamo dire che Callisto è il satellite più esterno di Giove, satellite mediceo ben inteso, che si trova ad una distanza di 1.882.700 chilometri. Quindi è già una distanza abbastanza grande. Per cui anche il periodo di rivoluzione orbitale di questo satellite è abbastanza grande perché si attesta intorno ai 16 giorni, 16 ore e 32 minuti. La massa di questo satellite è abbastanza grande nel senso che è più grande della massa della nostra Luna, vale a dire che è di 1,08 per 10 alla 23. La Luna è all'incirca un 10 alla 22, quindi c'è quasi un ordine di grandezza di differenza con la nostra Luna. Il diametro, anche questo è molto interessante perché Callisto ha un diametro di 4.821 chilometri che se lo rapportiamo a quello di Mercurio possiamo dire che sia Callisto che Mercurio hanno più o meno la stessa dimensione. Infatti Mercurio, vi ricordo, ha un diametro di 4.879 chilometri. Però la cosa che differenzia Callisto da Mercurio è la sua densità perché, come vedremo tra poco, ha una densità di 1,83 grammi per centimetro cubo, mentre Mercurio ha una densità di 5,4 grammi per centimetro cubo. Per quanto riguarda invece le temperature medie superficiali di Callisto, queste si attestano intorno ai meno 153, gradi centigradi. Chiaramente sono temperature via via più basse man mano che ci si allontana dal pianeta Giove che in qualche maniera riscalda la superficie dei satelliti. Per quanto concerne invece l'atmosfera, dobbiamo dire che su Callisto ci sono solo delle tracce di atmosfera. Infatti più avanti vedremo da cosa è composta questa atmosfera e quali pressioni si hanno sulla sua superficie. Callisto, a differenza degli altri satelliti medicei interni, non è in risonanza con gli altri satelliti. E questo, associato anche ad un valore di eccentricità dell'orbita di Callisto, che è estremamente bassa, fa sì che questa situazione non provochi un riscaldamento interno del satellite, perché non è influenzato in maniera sostanziale dalle maree gravitazionali prodotte dal pianeta Giove. Inoltre questo satellite è privo di un campo magnetico interno. La composizione di Callisto è la seguente, abbiamo già accennato che Callisto ha una densità relativamente bassa. Ecco, se noi confrontiamo la densità dei primi medicei, vediamo che io, che è il satellite più vicino a Giove, ha una densità di 3,5 grammi per centimetro cubo, mentre Europa ha una densità di 3,0, Ganimede 1,9 e Callisto, come vedete qui, 1,83. Ecco, vedete subito che i primi due satelliti medicei hanno una densità paragonabile quasi a quella di un pianeta roccioso, perché abbiamo detto che Mercurio ha una densità di 5,2, e qui siamo su 3,5,3,0, mentre si ha subito un calo sensibile per gli altri due satelliti più esterni, cioè Ganimede e Callisto, 1,9 e 1,83 grammi per centimetro cubo. La superficie di Callisto è costituita in ugual misura da ghiaccio d'acqua e da roccia, dove la roccia è costituita sostanzialmente da condriti e ossido di ferro. Il ghiaccio è praticamente presente su tutta la sua superficie e la sonda Galileo, che è arrivata nel 2003 nei paraggi di Callisto, ha messo in evidenza degli elementi non ghiacciati, come l'anidride carbonica e il biossido di zolfo. Come abbiamo già accennato per Ganimede, la superficie di Callisto è divisa sostanzialmente in due emisferi, un emisfero scuro e un emisfero chiaro, solo che a differenza degli altri satelliti medicei più interni, l'emisfero scuro è rivolto nella direzione del moto orbitale, cosa che avevamo visto non essere per quanto riguardava Europa e Ganimede, che mostrano una faccia più chiara nel senso della rivoluzione del satellite intorno a Giove. Qui avviene esattamente il contrario. L'emisfero scuro è costituito in buona sostanza da anidride solforosa, mentre l'emisfero chiaro è costituito da anidride carbonica e pare che questa superficie sia stata generata da crateri di impatto che hanno portato appunto in superficie l'anidride carbonica allo stato ghiacciato e quindi con un effetto di maggiore brillanza superficiale. La superficie di Callisto è la superficie più butterata che ci sia in tutti i satelliti medicei e sovrasta la litosfera ghiacciata, che dalle ultime osservazioni pare sia spessa addirittura a 150 km. Mentre tra i 150 e i 200 km sotto la superficie si dovrebbe avere dell'acqua allo stato liquido perché le temperature sono decisamente più elevate e di conseguenza l'acqua può trovarsi in questo stato liquido. Come abbiamo detto non esiste un campo magnetico proprio ma solo indotto che è provocato da un oceano con la presenza di sali e sostanze antigelo tipo l'ammoniaca. Quindi come abbiamo detto se noi abbiamo del liquido all'interno del satellite e questo liquido è costituito da sali minerali la rotazione che si genera crea un campo magnetico indotto. Il nucleo dovrebbe essere confinato entro i 600 km ed è composto da silicati. Callisto è il satellite più craterizzato del sistema solare e infatti tutta la sua superficie è cosparsa di crateri. Inoltre la superficie di Callisto non è costituita da crateri e montagne ma solamente da crateri e questi crateri più delle volte sviluppano degli anelli concentrici al cratere centrale. Quindi su Callisto non esistono delle montagne e questo ci fa già intravedere il fatto che non esiste una tettonica azole come avviene sulla nostra terra. I due grandi crateri che sono stati osservati sulla superficie di Callisto sono chiamati rispettivamente Valhalla che è un cratere avendo un diametro di 600 km ma i cui anelli concentrici si estendono fino a 3.600 km e l'altro cratere che si chiama Asgard che ha un diametro complessivo compresi gli anelli concentrici che si estende fino a 1.600 km. Inoltre sono state anche osservate delle catene di crateri e questo probabilmente è dovuto a impatti successivi di frammenti di asteroidi che sono piombati sulla superficie di Callisto. Il G-Pool catena è una di queste catene di crateri che si trovano praticamente allineati secondo una retta. La crosta di Callisto è stata valutata con un'età che si aggira intorno ai 4,5 miliardi di anni più o meno come l'età della nostra terra. Veniamo ora all'atmosfera di Callisto. Come abbiamo detto abbiamo una debolissima atmosfera e i componenti essenziali di questa atmosfera ci hanno mostrato grazie alla sonda Galileo che abbiamo della presenza di anidride carbonica. Però le pressioni sono estremamente basse sulla superficie di Callisto perché si attestano a 0,75 micropascal. e la presenza di questa seppur debole atmosfera non sarebbe compatibile se non ci fosse una reintegrazione continua di questa atmosfera e pare che questa reintegrazione continua dipenda dalla sublimazione dell'anidride carbonica che continuamente aumenta l'atmosfera del satellite Callisto. Quindi mentre parte di questa debole atmosfera si disperde nello spazio altra viene rinnovata dalla sublimazione dell'anidride carbonica. Inoltre è stata anche verificata la presenza dell'ionosfera con della composizione di ossigeno molecolare però questa è diciamo più che altro una supposizione ma non ancora suffragata da dati scientifici certi. Per quanto concerne invece l'origine e l'evoluzione di questo satellite dobbiamo dire che è avvenuto in maniera analoga agli altri satelliti medici cioè praticamente si è avuto una creazione della subnebula e quindi le polveri presenti nel disco protoplanetario che girava intorno a Giove hanno praticamente generato il satellite Callisto. Questo satellite è leggermente diverso dai precedenti perché è solo parzialmente differenziato e questa parziale differenziazione è dovuta sostanzialmente al mancato riscaldamento che ha avuto questo satellite nelle epoche più lontane. La formazione di questo satellite pare che sia avvenuta tra i 10 alla 5 e i 10 alla 7 anni quindi fino a 10 milioni di anni dall'inizio del sistema solare per cui è stata un'evoluzione abbastanza veloce e questa evoluzione è stata determinata dall'equilibrio tra il riscaldamento radiattivo che è proprio interno del satellite e il raffreddamento superficiale che chiaramente si è verificato. Sotto la crosta, sotto la superficie, è stato messo in evidenza un oceano a una profondità che oscilla tra i 100 e i 200 chilometri e si è visto che il punto di fusione del ghiaccio che solitamente sappiamo essere intorno agli 0 gradi in realtà in questi modelli che sono stati sviluppati pare che il punto di fusione sia addirittura sceso a meno 22 gradi centigradi con delle pressioni appunto a queste profondità di 2.070 atmosfere e questo punto di fusione più basso del ghiaccio d'acqua è probabilmente dovuto al fatto che è presente in questo ghiaccio non solo dell'acqua ma anche dell'ammoniaca come è stato detto non essendoci montagne sulla superficie di Callisto vuol dire che non esiste una tettonica placche come abbiamo sulla terra quindi non si ha un movimento della crosta superficiale in maniera tale che nel corso dei milioni di anni abbiano potuto creare addirittura delle catene montuose per quanto concerne invece la vita su Callisto dobbiamo dire che per effetto del fatto che sotto la superficie di Callisto esista un oceano e soprattutto un oceano appunto allo stato liquido questo fa propendere che anche su Callisto potrebbero esistere delle forme di vita di tipo batterico o comunque delle forme di vita di tipo organico però c'è da dire che se si dovesse fare un confronto con i satelliti medici e i più interni Callisto risulterebbe meno favorito degli altri quindi meno favorito sia di Europa che di Ganimede proprio perché questi due satelliti Europa e Ganimede hanno nel loro interno una quantità di calore decisamente più alta di quella che si ha su Callisto quindi le temperature sono più idonee a favorire qualche forma di vita primordiale su Callisto le temperature sono decisamente più basse anche se l'acqua si trova allo stato liquido però chiaramente c'è meno energia interna e di conseguenza la vita potrebbe avere difficoltà a svilupparsi per quanto riguarda le missioni spaziali non mi voglio dilungare ulteriormente perché sono poi sempre le stesse missioni che abbiamo preso in considerazione cioè Voyager 1 e 2 del 79 hanno visitato il satellite Callisto fornendo le prime immagini le quali sono state ottenute in maniera decisamente più dettagliata con la sonda Galileo nel 2003 quando in un sorbolo ravvicinato riuscì ad arrivare soltanto a 138 km di distanza dal satellite abbiamo avuto anche la missione Cassini e la New Horizon nel 2007 che hanno ulteriormente studiato il satellite Callisto fornendoci appunto le indicazioni che abbiamo riportato in questa lezione bene, con questa lezione chiudiamo appunto l'argomento di Giove e dei suoi satelliti medici e nella prossima lezione incomincieremo ad analizzare le caratteristiche del pianeta Saturno arrivederci